Buongiorno da LentiCar, oggi lunedì 29 giugno 2020 vi mostriamo questo Fiat Ducato immatricolato nel 2017, 98.000 km di percorrenza, è un passo lungo, quasi 6 metri di furgone, circa 1.500 kg di portata. Ha avuto un solo proprietario, è fatturabile interamente con IVA esposta, è finanziabile anche senza anticipo e se avete una permuta naturalmente la ritiriamo. Molto ricco l'equipaggiamento, vetri elettrici, chiusura centralizzata, impianto stereo, naturalmente aria condizionata, telefono bluetooth con comandi al volante e udite udite sensori di parcheggio indispensabili su questi mezzi. Allora non esitate, chiamateci subito per ulteriori informazioni. Ciao!